A carte coperte, Walter Alfredo Novellino ha nascosto il suo Avellino, aprendo sì le porte della tribuna Montevergine per permettere a tifosi addetti ai lavori di assistere al test contro la primavera di Iandolo, ma solo una volta che il grosso delle prove generali, Antifoggia, era stato con ogni probabilità già svolto, dato che i presenti hanno visto all'opera la quasi totalità delle seconde linee in due mini tempi da 45 minuti ciascuno. Gol di Asenzio e Castaldo prima dell'ingresso sul terreno di gioco, impegnati unicamente in lavoro atletico. In seguito a una sessione in palestra dei probabili titolari contro i pugliesi, nel gruppo pure Gavazzi, ormai lanciato verso il definitivo rientro, pienamente recuperato Capitano D'Angelo ha invece sudato in regime di differenziato rizzato che dovrebbe essere regolarmente a disposizione per il match contro l'11 di Stroppa. Aggregato alla primavera il belga Morgan Hato che si punta a inserire gradualmente nella prima squadra, 5 con Novellino e Scampolo di partita per Marchizza, che potrebbe essere una delle novità nella formazione di partenza. Unico assente il portiere Radu, appena rientrato dagli impegni con la Romania Under 21. Domani sarà di nuovo a disposizione del preparatore Amato e si aprirà il ballottaggio per una maia da titolare con Lezzerini, superlativo con il Brescia, tutt'altro che impeccabile contro la Cremonese. Grazie.